Chiara Tamburini, responsabile di iShoes Shortini. Ciao Chiara, tu curi la parte dedicata ai bambini, ci parli un po'. Allora, la parte dedicata ai bambini è la novità di quest'anno, una naturale evoluzione della sezione chiamata Junior di Shortini, che però si è un po' ampliata. Dedichiamo spazio all'arte e alla creatività per i bambini da tre anni in su, con una fetta di programma interamente dedicata a loro, dai laboratori creativi al teatro delle marionette, alle visioni, quindi proiezioni, film, cortometraggi esclusivamente dedicati ai bambini e tante altre possibilità di creare delle attività interattive, tra cui anche un set fotografico, la caccia al tesoro a tema cinema, quindi una parte di programma che può dare spazio anche ai bambini e dar modo anche alle famiglie, chiaramente di accedere al festival, proprio perché i più piccoli hanno uno spazio per loro. Facciamo crescere i piccoli artisti, sviluppiamo la creatività e l'arte. Questo è l'obiettivo di 4 terzi, l'obiettivo di Shortini, che ormai è arrivato all'ottava edizione, quindi ha necessità di crescere, ha la voglia di crescere, quindi ha il desiderio di dedicare uno spazio anche più piccoli, proprio perché possano crescere e possano scegliere cosa fare, possano affermare la loro volontà anche all'interno dell'arte. Quando questi appuntamenti con i bambini? Gli appuntamenti con i bambini seguono il naturale programma del festival, dal 31 luglio al 3 agosto. In realtà la novità ulteriore di questo programma è un workshop formativo, informativo potremmo dire, che si chiama Punti di Vista, questo inizierà il 28, quindi sono tre giorni di lezione che faremo qui, verso la nostra sede, 28, 29 e 30. A che ora lo diciamo? Iniziamo alle 9 e 30 fino più o meno alle 13. L'obiettivo è creare queste prime tre lezioni teoriche allo scopo poi di far lavorare i ragazzi che si sono iscritti a diretto contatto con il campo, quindi durante i giorni del festival saranno loro che seguiranno le attività, non soltanto chiaramente quelle dei bambini, ma tutte le attività del festival, quello che si svolge nella proiezione, nell'area principale. Li rendiamo partecipi. Li rendiamo partecipi, esatto, quindi metteranno in pratica quello che hanno imparato e costituiranno la redazione ufficiale di Shortini Film Festival.